bene ragazzi benvenuti su avventure di pesca allora questa sera poco tempo tento al volo una buca lo abbiamo visto dentro la babella se vedete questo video segno che qualcosa salta fuori bene buona visione porco cana cosa cazzo ha incannato ragazzi se un altro giorno tirava questa tira un po di più oh la madonna e big fish eh cazzo qui ha incannato un sottomarino porca puttana cosa ho visto dentro guarda lì che bella questa tira dobbiamo forzarti piccola no no che dio ce la mandi buona speriamo benvenuti su avventure di pesca con la canna piegata mamma mia poca l'ho rubata che tira così tanto come facciamo vai 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 che sei morta vieni bella se questa arriva a guadino dai no 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 forziamo 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 cazzo yeah big fish yeah Bene ragazzi, ecco il solito garbuglio, ma si perché no? Alex è arrivata quella che hai visto l'altra volta, ma come godo, vieni qua, ossigenati, prendi aria, prendi aria, non prendere il volo però, questi sono a pesci, un sottomarino, grande sottomarino, bella, maniamoci le mani, fatti toccare, che pezzo ragazzi, non so se rendo l'idea, se il guadino fa 60, no non è possibile, ma che bucca, aia, meno che non ti fai in male allora, oh cavoli, andiamo, oh che ti faccio male, tac, eh no, eh che cavoli, è un bel pezzo ma, 53, pensavo di aver botto il record di quest'anno, invece no, siamo ancora lì, 53, e buon dai è un bel pezzo, 53, pensatela come la volete, bella piccolina, grande cattura, sempre più grandi, eh sta ancora filmando, per fortuna, vedi, vedi, adesso la rilasciamo però, eh, adesso la rilasciamo però, eh, Bene ragazzi, è arrivata la big, ci voleva, l'avevamo vista l'altro giorno e taaac, meno male dai, che soddisfazione, adesso andiamo a mangiare la cena e via dai, buona, ecco, sono contento, qualcosa è uscito, per fortuna, mi hanno pure sgamato dall'autostrada, pensate un po' voi, dal grande combattimento, l'avevamo vista, è venuta dietro il mio socio Alex, alla fine mi è venuta in mente, BAM questa sera, grande soddisfazione, è uscita, video lampo, allora questo video lo concludiamo qua, come sempre se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e niente, alla prossima ragazzi, ciao! Oh yeah!